L'Abruzzo avrà una commissione di inchiesta sull'acqua. Siamo molto soddisfatti del voto all'unanimità del Consiglio regionale e siamo consapevoli del grande lavoro che ci aspetta. L'Abruzzo è una delle regioni italiane con riserve idriche più ampie eppure è la regione maglianera per dispersione idrica dell'acqua. Conosciamo tutti purtroppo sulla nostra pelle dei disagi e dei disservizi dovuti alla vetustà delle reti idriche e dunque alle reti colabrodo che perdono in alcuni punti, come ci ha detto l'Istat nell'ultimo report, fino al 70% dell'acqua che viene portata nelle nostre case. Questa commissione dunque avrà il compito di individuare tutti i problemi relativi alla gestione dell'acqua che arriva all'interno delle nostre case, individuare delle soluzioni, individuare soprattutto delle risorse, delle soluzioni e permettere a Regione Abruzzo e vigilare affinché Regione Abruzzo utilizzi al meglio queste risorse per risolvere una volta per tutte definitivamente il problema dell'acqua che deve essere una risorsa e non un problema.